Veleni 200 volte superiori ai limiti di legge sversati direttamente nel fiume Sarno. L'inquietante scoperta è stata fatta dai carabinieri del gruppo per la tutela ambientale e la transizione ecologica di Napoli e ha portato alla notifica di due misure restrittive nei confronti di due imprenditori finiti stamane agli arresti domiciliari. Pesanti le accuse nei loro confronti, i provvedimenti cautelari e gli arresti domiciliari sono stati emessi dal GIP presso il Tribunale di Torre annunziata su richiesta della locale procura a carico dei due imprenditori per l'ipotesi di inquinamento ambientale del fiume Sarno, scarico abusivo di reflui industriali e reiterata violazione dei sigilli. È la prima volta che imprenditori vengono colpiti da misure restrittive personali per reati di natura ambientale legati all'inquinamento del fiume Sarno, segno che il livello di guardia è salito. L'azienda in questione è un'azienda operante nell'area napoletana dedita alla zincatura e non a caso nel corso d'acqua bottaro affluente del Sarno sono state rinvenute sostanze chimiche altamente nocive per la salute umana con valori di gran lunga superiori ai limiti di legge, rinvenuti zinco, rame e ammoniaca che vengono utilizzati solitamente per la zincatura e che da analisi effettuate dai militari per la tutela ambientale risultavano essere gli stessi rinvenuti in una griglia collegata all'azienda in questione e che sversava direttamente nel canale bottaro. Ma c'è di più, l'azienda in questione era già stata posta sotto sequestro dieci giorni fa nell'ambito della precedente operazione coordinata dalle tre procure di Napoli Avellino e Nocera Inferiore ma continuava nonostante il sequestro la sua attività lavorativa. I carabinieri hanno riscontrato che l'attività all'interno continuava di notte quando gli operai entravano violando i sigilli apposti dall'autorità giudiziaria. Un vero e proprio attentato alla salute umana, dicono gli inquirenti, se si pensa che le acque del fiume Sarno in base anche alle risultanze delle autorità competenti sono utilizzate per irrigare i campi atti a cultura avvelenando in questo modo ortaggi, frutta, verdura che arrivano sulle nostre tavole. Per il momento i due imprenditori con precedenti specifici per reati contro l'ambiente sono agli arresti domiciliari altri potrebbero seguire la stessa sorte. Le indagini che fino ad ora hanno portato in un anno al sequestro di 50 aziende su 400 controllate sono solo all'inizio. Non si scherza più, dicono gli inquirenti, la guerra ai killer del Sarno è appena entrata nel vivo.